E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, 4000 like facili, che non stia neanche a conteggiarli signori seguitemi sui social, condividete questo video con tutti i tifosi della Fiorentina che conoscete, seguite le pagine amiche sui social Suffering Fiorentina, Viola Press, una vita sfumata Viola, guardate i video fatti, la live di ieri in cui ci siamo pisciati addosso da ridere, abbiamo parlato di Fiorentina, i video fatti sulla Fiorentina e attivate il campanaccio perché domattina, domattina, video dal giorno dopo con analisi e sfogo verso il calciomercato di gennaio, affrontiamo una volta per tutte questo pressing fastidioso di cui ho parlato anche su Instagram e su Twitter sulla Fiorentina che ci impongono di comprare Tizio, Caio, il quinto esterno, ora bisogna spendere, domani affrontiamo e vi dico cosa bisogna fare noi a gennaio. Detto questo, una Fiorentina stasera veramente il primo, azzardo lo dico, primo tempo migliore della stagione. Nel primo tempo la Fiorentina migliore della stagione, nonostante il gol, nonostante il primo tempo ottimo fatto anche contro l'Inter, fatto anche contro il Milan per carità, però dal punto di vista dell'intelligenza, della resa dei singoli, della mentalità, del carattere, del tutto, del tutto anche in previsione del secondo tempo, della reazione, della gestione, talvolta comunque in presenza di una Fiorentina fiera, di una Fiorentina piena, di una Fiorentina che continuava ad attaccare veramente un primo tempo, un primo tempo che non si vedeva da tempo, signori, una Fiorentina nel primo tempo che non si vedeva da tempo. Peccato per il gol, ma chi se ne frega, sono cose che capitano, è stato anche secondo me, sebbene la Sampdoria non avesse iniziato male, per carità, con un buon piglio, ma poi a parte quell'episodio lì mi viene da dire che poi la Fiorentina ha ampiamente sovrastato e meritato una Sampdoria che ha delle buone individualità, sicuramente, che non aveva neanche iniziato male, però oggi la Fiorentina si è dimostrata superiore, mi viene da dire, in tutto, nel gioco, nella mentalità, nella tecnica, nell'applicazione, poi sul campo, partita clamorosa di tanti interpreti, oggi mi sono piaciuti in tanti, parto da Terracciano che è veramente una sicurezza, quando a serate è così un portiere enormi, ma esaltante la normalità, una normalità di portieri che si fa sempre più fatica a trovare, lui è veramente l'esaltazione della normalità, questo portiere esalta, ti esalta nel garantire una grande normalità, questo portiere, quindi grandi complimenti a lui, partita ordinata di Venuti, che è un giocatore più difensivo rispetto a Odriozola, magari avrà qualcosa in meno dal punto di vista offensivo, per oggi ha avuto un ordine, ha dato ordine, lui ha un'applicazione più difensiva nella sua zona, quindi ha fatto il suo, la coppia di centrali non sempre perfetta sul gol, però poi comunque ha recuperato, lo stesso Igor che poteva fare qualcosina di più anticipando poi il giocatore della Samp Gabbiadini che ha segnato, però poi ha recuperato con degli anticipi precisi e una prestazione buona, Martinez Quarta è il solito Martinez Quarta, Biraghi mi è piaciuto molto, soprattutto in fase offensiva, il terzo gol, le pennellate per quello che l'ha pennellata, per quello che poteva essere il 4-1 di Vlaovic, oggi veramente Biraghi mi è piaciuto, non solo oggi, anche oggi mi è piaciuto, ma quest'oggi ho rivisto del biraghismo anche offensivo, fin qui si è fatto apprezzare per una grande solidità difensiva, oggi si è visto un giocatore che mi dispiace, anzi non mi dispiace, mi gasa dirlo, ma se voi andate a vedere i passaggi chiave di questa Fiorentina, Biraghi è al quarto posto in Serie A, Biraghi è il regista di questa squadra, Biraghi è il regista offensivo di questa squadra, se voi vedete le risalite, le discese in fascia, l'organizzazione della fase offensiva della Fiorentina passa per Biraghi e per questo mi spiego che gioca sempre, anche se un po' di riposo glielo darei perché ha una grande condizione atletica in forma, però è l'unico che penso io non abbia saltato neanche una partita, un po' di rifiatello glielo farei anche fare, anche se vi ripeto è imprescindibile un giocatore del genere, poi veniamo al centrocampo, Buonaventura il primo tempo, forse il miglior Buonaventura della stagione, in ogni caso una prestazione come quelle viste ad inizio stagione, come quelle viste ad inizio stagione, le prime due gare tre che fece bene, poi nelle ultime si era perso, aveva fatto delle gare discutibili, primo tempo ottimo, poi secondo tempo un po' calato, si è un po' spento, però ha gestito bene come la squadra, Duncan normale, diciamo una prestazione normale e veniamo all'attacco, Vlaovic che segna solo un gol ma ne meriterebbe due tre per il lavoro che fa per la squadra, per le sponde, per la capacità di difendere il pallone, di favorire gli inserimenti, di mettere pressione, lo marcano in due, fammo unire due centrali, partita clamorosa, partita clamorosa, Calleon, quest'oggi benissimo, Calleon partita di esperienza, partita veramente solida, di sostanza, di testa, ha detto bene, ha detto bene, ha veramente fatto una partita di testa e poi permettetemi di chiudere signori, permettetemi di chiudere, penso che penso che si possa, penso che si, penso che posso, Riccardo Sottil, Riccardo Sottil oggi giga Chad, giga Chad, giga Chad, Riccardo Sottil oggi partita da giga Chad, come giustamente su Suffering Field, Chad, un Chad, un Chad, che cazzo di partita ha fatto Riccardo Sottil, strappi, roulette, assist, un cross perfetto per Calleon, io penso che Calleon non abbia mai ricevuto un cross così bello neanche a Napoli, quando faceva al bacio, gol meritato, strappi, lavoro, ma tenetevelo il quinto esterno, anticipo, anticipo, tenetevelo il quinto esterno, con un saponara così, elegante, con un saponara elegante, che gasa, nostro, nostro, che gasa, Calleon che comunque non è il Calleon di 4-5 anni fa, ma fa il suo, non è sicuramente sto giocatore che abbiamo urgenza di rescindere, tu lascialo lì, lascialo lì e poi Sottil che è veramente un giocatore che sa continuità, che se lo fai giocare, prima partita veramente quando gioca titolare fa sempre il suo, con l'Inter aveva segnato, oggi ha fatto una partita clamorosa, è giovane, è il futuro, questo giocatore qua, voi non avete idea di cosa avete sotto mano, giusti, applausi all'uscita del campo, meritatissimi, grande giocatore, Saponara, Sottil, Calleon, Nico Gonzalez, che oggi non è neanche giocato, ma tu lascia stare, lasciali evitare questa gente, facci divertire con questi qua, che abbiamo una squadra esiziale e fatto bene, poi il collante, diciamo, il collante di un gioco valorizzante, di un gioco bello da vedere, o sentivo in cronaca, anche se poi loro devono sempre esagerare, che l'italiano era incazzato perché voleva il 4-1, ma va bene così, anche se non è il 4-1 va bene, un secondo tempo di gestione ci sta, siamo in infrastruttimanale, abbiamo una partita complessa domenica a Bologna, che sarà difficile, perché poi il Bologna adesso a Roma è Fiorentina, quindi sarà difficile andare a... va bene così, va bene anche gestire, va bene il secondo tempo che abbiamo fatto, chi se ne frega, vi ripeto, primo tempo, primo tempo totale, primo tempo fantastico, una veramente, a mio avviso, miglior primo tempo, sarà che ha segnato Sottil, che abbiamo visto un Sottil devastante, però veramente, credo il miglior primo tempo della stagione, miglior primo tempo della stagione. Allora, vado con i voti, Terracciano, 6 e mezzo, Venuti, 6 più, sarebbe da 6, ma siamo buoni, diamogli 6 più. Martinez Quarta, voto, 6 più, Igor, voto, 6 più, dai, sono veramente oggi, sono di manica, sono di manica extra large, sono di manica extra large, va bene, 6 più. Biraghi, 6 e mezzo, 6 e mezzo, il regista, è Biraghi il regista. Torreira è un giocatore di contenimento, di equilibrio, Biraghi è il nostro pirlo, Biraghi è il pirlo della Fiorentina, 6 e mezzo. Bonaventura, calato un po' nel secondo tempo, ma primo tempo di grande qualità, lo voglio premiare, dal 6 al 7, Bonaventura. Torreira, Torreira ha fatto bene quando la squadra stava soffrendo, ha iniziato benissimo la partita, è stato il migliore frattanto che noi eravamo in svantaggio, poi da che la Fiorentina è andata in vantaggio, sono saliti i giocatori di applicazione offensiva, di verticalità, di tiro e di gol ed è un po' calato lui, è ritornato nel finale di prima, lui emerge nei momenti di difficoltà, però gli voglio dare 6 e mezzo, dai, siamo stati buoni con gli altri, siamo buoni anche con lui, 6 e mezzo. Duncan, sarebbe da 6, legacy venuti, sarebbe da 6 meglio, forse anche un po' meno bene di venuti, però gli diamo 6 più, dai, gli diamo 6 più perché è un albergatore nel Salento, ok? Quindi 6 più perché è un albergatore nel Salento. Caleon. 6 e mezzo, dai, ero indeciso tra 6 e mezzo e 6 al 7, andiamo di 6 e mezzo, 6 e mezzo. Vlaovic dal 6 al 7, del 6 al 7, clamoroso, Sottil dal 6 al 7. Voto ai sostituti, Saponara 6, ma lei è entrato bene, 6 più, Di Stefano 6, Cocorino 6, non è entrato male, non è entrato male. Voto italiano. Dal 6 al 7 se inizi a darmi fiducia con regolarità, Sottil, altrimenti 6 e mezzo. Diamo dal 6 al 7 perché sono convinto che gliela darà. Un caro salute.